ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo volevo subito ricordare che questi sono degli interattivi e come tali adottate ciò che le carte vi comunicano alla vostra situazione attuale e al vostro settore di interesse che esso sia amore lavoro fortuna famiglia o personale i video hanno validità dal momento in cui se ne prende visione anche se la data di pubblicazione è già superata dal momento in cui si prende visione tranne quelli che hanno riferimenti o date a un periodo specifico per i video sullo zodiaco il mio consiglio è di ascoltare anche il tuo scendente il segno dove si trova la luna nel tuo tema natale per tutto ciò che riguarda le tue emozioni le intuizioni e ciò che senti dentro di te il segno in cui si trova giove per il lavoro il denaro la carriera le ambizioni gli obiettivi e ciò che si realizza in maniera concreta il segno in cui si trova venere per la famiglia l'amore i rapporti con le persone sia quella che quelle che già conosci sia per quelle che conoscerai si eseguono rituali di purificazione energetica contro malocchio negatività invidi e gelosie con stampa digitale personalizzata da scaricare gratuitamente stampare le letture di cartomanzia personalizzata ricerca e spiegazione del proprio numero personale numero del destino attraverso la data di nascita ed il nome per sapere il tuo scopo in questa esistenza evolutiva dell'anima e cosa significa il colore della tua aura e quali benefici porta alla tua persona attivazione delle rune magiche per ogni vostra esigenza con possibile stampa digitale su richiesta da scaricare gratuitamente e stampare per ricevere tutte le info necessarie e procedere a come fare per avere tutto ciò di cui si ha bisogno sotto ogni video trovate i miei contatti numero whatsapp solo messaggi e indirizzo e mail vi ricordo che tutti i servizi da me offerti sono su prenotazione grazie per l'attenzione vi lascio alla visione del video eccoci con i nostri segni di fuoco ariete sagittario e leone andiamo subito a vedere qual è il messaggio in linea generale che riguarda i nostri tre segni di fuoco vediamo un po che cosa hanno da dire i nostri angeli ai nostri segni vediamo un po abbiamo il custode della sfida pronto a vincere questo è molto interessante perché sappiamo benissimo che i segni di fuoco hanno sempre questa predominanza per la vittoria allora custode della sfida pronto a vincere pronto a vincere salta non aver paura la senti la chiamata a risveglio come custode della legge della sfida e questa è la prova che ti propongo se sei nella notte buia dell'anima vuol dire che sei sulla strada giusta ma ricorda solo tu puoi darti le risposte che cerchi per trovarle arrenditi al divino abbandona le redini abitua di affrequentare a frequenze vibrazionali elevate quando la visione è chiara e le emozioni sono forti stai diventando un creatore del tuo destino apriti a una nuova prospettiva colora la tua realtà smetti di pensare e inizia ad essere la sfida che ti lancio non è semplice ma la puoi vincere altrimenti non saremmo qui a parlarne buona fortuna ne avrai bisogno questo è perfetto per quanto riguarda i nostri segni di fuoco una sfida che gli angeli vi stanno portando a a vincere perché qui si parla di paure paure nell'affrontare un qualcosa che vi frena paura nell'affrontare delle situazioni che magari vi ricordano un passato e di conseguenza siete un po' come dire resti a buttarvi l'angelo custode cosa vi dice pronto a vincere questa sfida te la sto mandando appunto per farti capire che quello che hai vissuto che quello che ti fa paura è semplicemente nella tua mente e hai bisogno appunto di sfidare quelle che sono le tue paure perché di sicuro avrai la vittoria già hai la vittoria in mano però dipende da te appunto il saperti buttare affrontarne fai esercizio fisico quando il tuo corpo si rafforza inizi a sentirti più potente in ogni senso perciò cominciamo a camminare cominciamo a muoverci di più questo non penso faccia parte dell'elemento fuoco perché l'elemento fuoco non sta mai fermo però qua mi dice di fare esercizio fisico allenate il fisico per far stare bene la mente più la mente sta bene più avrete appunto la voglia e la forza di sfidare quello che sta per arrivare nella vostra vita è una sfida molto importante per voi segni di fuoco una sfida che in un certo senso vi mette un po sul chi va là e vorrebbe farvi fare un passo indietro allora vediamo un po in che energia siamo per i nostri segni di fuoco vediamo in che energia siamo inatteso imprevisto fulminio perciò segni di fuoco aspettatevi un qualcosa che non vi aspettate nel senso il gioco di parole è abbastanza articolato nel momento in cui voi pensate che nulla sta accadendo che tutto è piatto che tutto è fermo qua c'è appunto un non dico imprevisto ma un qualcosa di inatteso un qualcosa di fulminio nel senso voi attendete tanto una determinata persona una determinata situazione che nel momento in cui pensate che non si farà più sentire non si muoverà ecco che qualcosa si muove il fatto dell'esercizio fisico mi fa anche pensare che questa sfida potrebbe essere un incontro inatteso e fulminio e guardate l'immagine potrebbe anche essere un qualcosa a livello sentimentale e mi fa anche pensare che potrebbe avvenire tutto nell'ambito di chi di voi frequenta una palestra frequenta un ambiente sportivo lavora nell'ambito sportivo o semplicemente va ad allenarsi andiamo a vedere a livello di emozioni che cosa c'è per quanto riguarda i segni di fuoco vediamo cosa si è girato bene ecco qua vedete quando io ho detto che potrebbe essere qualcosa che riguarda il sentimento ecco qua che arriva love innamoramento amore sentimenti felici innamoramento forte coinvolgimento emotivo tutto mi fa pensare che qua ci sono i segni di fuoco che un attimino davanti a un qualcosa di inatteso di un qualcosa che non si aspettano potrebbero un attimo a essere mamma mia ma sta veramente accadendo a me e di conseguenza qua mi parla di un innamoramento potrebbe di un innamorato addirittura potrebbe essere un qualcuno che prova dei sentimenti per voi e che fino a questo momento non si è fatto avanti potrebbe essere un interesse che piano piano sta crescendo in una determinata persona e quando voi meno ve lo aspettate viene e ve lo fa capire o vi parla questa è la sfida dei nostri segni di fuoco vediamo ancora che cosa ci dicono i nostri arcangeli allora abbiamo il 9 di raffaele esprimi un desiderio i sogni diventano realtà felice momento della tua vita qui c'è qualcosa che vi darà grande soddisfazione segni di fuoco eh 8 di gabriele grande attività risultati improvvisi e immediati comunicazioni importanti qua potrebbe arrivare una comunicazione appunto quando voi meno ve lo aspettate una comunicazione che vi darà molta soddisfazione che vi farà stare proprio bene appagati e soddisfatti abbiamo l'asso di michele un nuovo inizio una nuova idea meravigliosa non lasciare che gli ostacoli sulla strada ti impediscono di progredire risolvi i problemi di comunicazione con gli altri cercate di non essere troppo chiusi eh segni di fuoco cercate di essere molto più aperti molto più liberi date un taglio a quella che è una situazione vecchia che vi fa star male perché qua mi parla di comunicazioni improvvise che stanno per arrivare chi vi daranno molta soddisfazione eh vediamo ancora abbiamo il re di ariel anche per voi un bellissimo re eh di denari qua mi sa proprio che questa è una persona i tuoi piani stanno andando molto bene successo professionale ed economico usi le tue risorse in modo saggio qua mi sa tanto che c'è una persona che comincia a sentire un qualcosa a livello sentimentale e voi siete molto più concrete siete molto più con i piedi per terra come per dire aspetta un attimo fammi vedere un attimo chi sei e chi non sei realmente poi abbiamo il 3 di michele lascia andare il passato appunto questa situazione ti farà crescere il tempo guarisce tutte le ferite cercate di dare un taglio vedete le carte poi come si abbinano vedete l'asso di spade con il 3 di spade dovete dare un taglio a quello che è un qualcosa che vi ha fatto soffrire in passato per accogliere a braccia aperte questa meraviglia di novità che sta per arrivare nella vostra vita andiamo a vedere segno per segno vediamo un po segno per segno che cosa hanno da dirci gli angeli appunto la risposta degli angeli amici dell'ariete fate una domanda e vediamo che cosa risponderanno i nostri angeli allora miglioramento di salute a livello sempre motivo vi ricordo è c'è un miglioramento di salute ma proprio un miglioramento generale della situazione vediamo di che cosa parliamo con questa con questa situazione dell'ariete vediamo un miglioramento per quanto riguarda tutto un po il vostro essere amici dell'ariete vediamo un po eccola qua il ritorno il ritorno che potrebbe essere però anche un qualcosa che riguarda come dire un qualcosa che riguarda la ruota perché qua mi parla anche di una ruota vedete che come se ci fosse la ruota della fortuna perciò qui è come se qualcosa si muove qualcosa che voi pensavate fosse ancora fermo forse immobile invece qui c'è qualcosa che sta appunto muovendosi a vostro favore vediamo un po per essere più più chiari vediamo un po qua secondo me c'è appunto un cambiamento di rotta c'è qualcosa che si muove qualcosa appunto che cambia perché questa mi fa molto pensare alla ruota della fortuna una ruota che mi mi riporta appunto anche a un rinnovamento per quanto riguarda l'ariete c'è un miglioramento proprio un rinnovamento vediamo per il sagittario che cosa abbiamo vediamo cosa ci dicono i nostri angeli chiedi aiuto appunto a loro chiedi aiuto agli angeli per avere una idea per avere un qualcosa che ti porta a migliorare se hai dei dubbi se hai delle incertezze chiedi a loro chiedi dei segni loro sicuramente ti risponderanno ma tu devi essere molto ricettivo a tutto ciò vedete per quanto riguarda il lavoro il lavoro è la diciamo qualcosa di importante per adesso nella nella vita del sagittario chiedi aiuto agli angeli per avere delle intuizioni delle dritte ma potrebbe essere anche un lavoro a livello sentimentale che si vuole che si vuole arrivare a a concludere oppure a migliorare vediamo per il leone cosa abbiamo perdono vediamo qua che cosa c'è per gli amici del leone perché perdono evoluzione con un perdono qua potrebbe essere che qualcuno chiede il vostro perdono leone ma potrebbe anche essere che voi dovete chiedere perdono a qualcuno per l'evoluzione di una situazione che in questo momento voi state tenendo ferma state tenendo state tenendo bloccata c'è un'evoluzione però c'è un qualcosa che in voi sta cambiando sta migliorando e cercate di ottenere il massimo appunto da questo miglioramento cari segni di fuoco io vi ringrazio per aver visto il video vi aspetto nei commenti e ci vediamo alla prossima